Peter Cameron è uno scrittore statunitense noto, bravo, sono noti i suoi romanzi tutti editi in Italia da Adelphi, qualcuno di essi è presentato anche nel nostro sito, è appena uscito sempre per Adelphi un romanzo intitolato Anno bisestile, eccolo qua, e quando l'ho visto in libreria mi son detto un nuovo romanzo di Peter Cameron, poi ho controllato, non è così vero perché questo romanzo uscì, pensate, a puntate su una rivista negli Stati Uniti nel 1988 e poi sempre negli Stati Uniti come libro nel 1990, quindi 30 anni fa. Adelphi lo riprende adesso, anche perché Cameron nel frattempo è diventato famoso, è questo romanzo che denota questa anagrafe, denota la freschezza degli esordi e qua e là anche l'incertezza o l'accerbità degli esordi, bisogna dirlo. Noi conosciamo un Cameron più profondo, più maturo, più misterioso, più lavorato, elaborato, più complesso, più completo. Questo romanzo però ha il vantaggio di essere una commedia brillante, un po' snob, con molto glamour, con delle tracce di giallo addirittura di noir, una commedia di intrecci sentimentali un po' complicati e siamo come sempre nei romanzi di Cameron in una New York di intellettuali o intellettualini e ci sono molte ambizioni, i vernissage d'arte, artisti pittori, galleristi, scrittori, aspiranti e scrittori, qualche ardimento di tipo sessuale, coppie in cui i protagonisti si sono rifiutati e poi tornano a fiutarsi e qualche triangolazione. Il tutto raccontato con un divertissement, con i signori scintillanti, qua e là si nota una sorta di acerbità, di snobismo, però c'è il piacere di ritrovare subito, subito il talento dello scrittore che poi si consoliderà con gli altri romanzi. Chi ama Peter Cameron vada tranquillo anche su questo libro. Grazie a tutti.